Dalla didattica teorica in classe alla sperimentazione diretta in uno scenario straordinario qual è il Parco delle Cinque Terre, cimentandosi nelle fasi più delicate della produzione dello sciacquetrà, il prestigioso vino apprezzato dai più sofisticati intenditori. E' questa l'esperienza che la quarta F dell'Istituto Agrario Arzelà di Sarzana ha vissuto questa mattina. Accompagnati dal loro professore Massimo Caleo hanno raggiunto il luogo di produzione sulle alture di Corniglia. Oggi abbiamo potuto vedere come si fa la sgranatura dell'uva per poi fare lo sciacquetrà e i ragazzi sono stati veramente entusiasti. La scuola che piace a me, cioè la teoria, però vedere anche praticamente come si fa un prodotto che è conosciuto in tutto il mondo. E i ragazzi sono rimasti molto contenti, soddisfatti. La differenza tra una giornata in classe e una giornata in campo è che questa mattina alla stazione erano tutti puntuali con il biglietto in tasca. Sicuramente è un'esperienza che ripeteremo e il binomio tra la scuola, l'Istituto Agrario, il Parco Nazionale e gli agricoltori delle Cinque Terre è un binomio che ancora di più si deve consolidare nel futuro e lo faremo con altre iniziative. Pietro Galletti, un giovane agricoltore, ogni mattina parte da Corniglia per raggiungere Sarzana e frequentare l'Istituto Agrario. Ma è una cosa che mi è sempre piaciuta e nonostante la distanza mi è venuto, ho voglia comunque di provare questa scuola. Per lui è una consuetudine coltivare la vigna e sgranare l'uva per produrre lo sciacquetrà. Oggi ha contiviso questa esperienza con i suoi compagni di classe. Beh, molto bella anche per far capire a gente di fuori come i miei compagni come viene fatta qua l'agricoltura e come le cose sono diverse. Una esperienza accolta con grande entusiasmo dai ragazzi. Sì, certo, molto bella, un'esperienza interessante soprattutto anche perché io non avevo mai visto come si faceva questo tipo di vino e soprattutto siamo anche in un posto fantastico che era da tanto tempo che non ci venivo. Sono felice di quello che stiamo facendo. Ma la soddisfazione è anche dei produttori che intravedono dei giovani e futuri agronomi la proiezione delle loro fatiche e delle loro esperienze. No, per me è infinita veramente ospitare il futuro, il nostro futuro. Speriamo bene, speriamo di passare, di trasmettere un'ottima esperienza e vedremo i risultati nei prossimi anni. Anzi, vorrei ripetere tutti gli anni avere questa bellissima esperienza. Quali sono le fasi salienti per ottenere un ottimo sciacquetrà? Innanzitutto praticamente l'analisi, innanzitutto la raccolta che è fondamentale per tutta una questione di gradazione e di acidità. Quindi la raccolta giusta nel periodo giusto. Poi l'essiccazione in base al tempo che passa, all'umidità che passa e poi chiaramente la vinificazione. Finita la vinificazione, la maturazione dello sciacquetrà negli anni. E quindi questi sono vini che possono anche essere invecchiati per 10-20 anni. E dopo le fatiche della sgranatura dell'uva, un momento di relax con la focaccia per infrancarsi e riprendere con nuova lena non poteva mancare.